bello a tutti ragazzi sono andrea dello stat di utfi oggi sono qui per portarvi questo squad builder che ho pensato io ho realizzato questo squad builder di sole triple intese di giocatori oro non rari per cercare un po di abbattere lo script momentum che ogni tanto mi colpisce tipo provo a fare delle squadre overpower van bene una due partite poi inizio già a bestemmiare come una lodola come vedete lo squad builder è serio non raro veramente molto molto economico fate che con 6.000 6.500 crediti riuscite a realizzarlo tranquillamente sono tre giocatori argentini del del genoa ossia costa ansaldi e perotti tre giocatori spagnoli atletico bilbao vietto e poi quattro giocatori dell'ajax ossia vetman si le se ne importe rivald come altro difensore centrale e con la bestia di baswer come centrocampista difensiva tra l'altro classe 96 come vedete va veramente giovanissimi e quindi direi che andiamo a vedere un po come mi ha funzionato diciamo che nelle prime quattro partite è stata veramente fantastica poi io ho fatto solo quelle quattro quindi per ora è ancora fantastica però posso dire con quasi certezza che è veramente una squadra anti script perché 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 allora in queste quattro partite mi hanno realizzato un qualcosa come 17 barra 18 golle e ne hanno subiti zero ma non che comunque prendevo imbarcate mi salvavo la bella in culo in porta diciamo che veramente difendevano veramente molto molto bene in una partita ho subito solo due tiri in un'altra non subito addirittura zero quindi veramente una squadra fantastica a livello di organizzazione difensiva i terzini si accentrano molto spesso per cercare di evitare difensori centrali o come difensori centrali tanto uno dei due si allarga mentre baswer va a ricoprire la difesa in attacco devo dire che gli esterni non segnano molto ma questo dipende molto dal mio stile di gioco perché perché io tengo tengo spesso col centrocampista passare palla all'esterno intanto il centrocampista sale con l'esterno a porto sul pallone poi la riscarico al centro dove mi ritrovo sia con vietto sia con rico sia con costa a poter tirare in porta quindi una tripla soluzione diciamo quindi io gli esterni più che altro li utilizzo per portare su il pallone allora qualche altro dire quella qualità a centrocampo è veramente elevatissima perché tutti e tre i giocatori non sono dei giocatori sbilanciati quindi non c'è uno che è eccessivamente offensivo non c'è uno che è eccessivamente difensivo non c'è uno che ha poco fisico sono tutti e tre molto equilibrati sia come qualità di passaggi sia per tiri sia per difesa e questo è veramente ottimo perché qua salgono tutti e tre tornano indietro tutti e tre e come avete visto in questo caso è arrivato rico che se ha fatto questo taglio ad entrare dentro l'area e mi ha fatto un gol veramente eccezionale ed è successo più volte in questa partita almeno due tre volte mi è riuscito a fare gol in questo modo vietto si allarga un po lui rientra dentro con un passaggio da parte di costa o di basso era secondo la situazione e va a segnare altra partita qui come possiamo notare dal dazzo sempre quello gran tanti tanti passaggi centrocampo cercare l'azione buona il momento buono come avete qua infatti con basso come dicevo porto avanti la palla la scarico ricco ricco la ripassa poi all'attaccante o a basso in questo caso è stato la perotti che ha fatto un buonissimo tiro il portiere qua è riuscito a salvarsi in qualche modo però vabbè vi ripeto ragazzi e voi giocatori non è che vabbè qui non so cosa sia successo all'avversario se la rimbecilita avrà avuto un attacco unimbolo ha scaricato palla così indietro sono arrivato con il nano vietto a prenderla di testa e abbattere il suo portiere e riuscire a fare questo gol cioè dico cazzo medio per me cioè non lamentiamoci per una volta che succede una roba del genere poi qua ripartenza classica vietto comunque al suo 70 di fisico e non è che sia proprio uno scheletrino riesce a combattere bene poi a buona velocità un buon dribbling è riuscito a averla meglio sul difensore e a scaricarla in porta come dico non è che ci sono giocatori eccezionali e non è che abbiamo tipo un vidal a centrocampo sono giocatori discreti però comunque equilibrati che sanno il fatto loro infatti qua come vi dicevo prima ancora una volta rico è andato a tagliare dentro l'area e a fare questo mirabolante gol qui di nuovo come vi dicevo l'ottimo fraseggio che c'è fra centrocampisti baser che è salito su scarica le palla rico che prova a tirare io adesso ammazzo questo coglione che sono nel claxon scusate qua di nuovo c'è stato un ottimo lavoro in fase difensiva come vi dicevo per questo uno dei fatti che ho subito zero gol perché in difesa vanno sempre a chiudere in due alcune volte addirittura tre uomini il giocatore che prova ad attaccare e non sempre sono giocatori deboli come in questo caso l'ultima verità che ho fatto me l'ho trovato uno che l'attacco comunque è agente del calibro di Jonas e di Hulk quindi non proprio debolissimi con anche un certo Coutinho centrocampo un firmino quindi la qualità ce l'avevano anche gli avversari però la mia squadra nonostante tutto nonostante costasse solo 6500 credit è riuscita a reggere veramente molto molto bene infatti qua di nuovo rubiamo palla su tre quarti avversaria scarico obietto che prova un tiro giro qua stavolta mi è andato fuori però l'andazzo è sempre quale si riesce sempre a recuperare palla sul centrocampo qui ancora come vedete Hulk è comunque sempre difficile da fermare anche nella sua versione normale perché ha tantissimo fisico però sono riuscito e da questa fermata è ripartito al contropiede vedete qui ha un saldo di prima la riscarica costa che la controlla di petto poi la allunga con un pallonetto a Perotti Perotti come al solito lo faccio correre sulla fascia cross in mezzo arriva a filmino a 200 all'ora e tira questa cannonata in porta di testa questo gol è arrivato da una ripartenza difesa da una palla recuperata dai difensori quindi se poi devo dire i top 3 dei giocatori di questa rosa sicuramente sono buzzer perché vabbè è allucinante prende palla davanti alla difesa la porta su ha un ottimo dribbling un ottimo passaggio un altro giocatore top sicuramente è costa anche per le punizioni soprattutto perché è mancino poi altri se vogliamo dire due giocatori che sono molto buoni sono Vietto perché ha un ottimo dribbling cioè sicuramente non me l'aspettavo pensavo fosse un attaccante ok normale cioè che sta lì invece è molto molto buono e si le sa perché comunque ogni tanto mi ha fatto degli interventi della Madonna e per questo che sono anche a 0 consumiti qui altra palla recuperata in difesa altra ripartenza Rico una sventagliata su anche lui un giocatore eccezionale ottimo controllo di Vietto non c'è praticamente più nessuno davanti tiro giro e gol altro 3-0 quindi tirando un po' le somme se si può dire così squadra che ve la consiglio assolutamente se volete provarla non costa praticamente nulla ve l'ho detto sui 6.000 7.000 crediti io la considero la squadra anti script anti momento perché sono solo triple intese tutti giocatori in orrari a parte il portiere tantissima qualità mi sono trovato davvero benissimo spero che questo video vi possa piacere provatelo anche voi ditemi come li trovate ci vediamo al prossimo video bella